olio si non credi che sia un po' rischioso rubare quel documento dalla cassaforte qualunque sia il rischio dobbiamo assolutamente riprenderlo ed è quello che faremo appena i vestiti si saranno asciugati è un'ottima idea se la ragazza lo verrà a sapere dammi del fuoco i fiammifari saranno tutti bagnati grazie guarda se il vestito è asciutto è asciutto solo questo? adesso che mi ricordo tu avevi fatto un giuramento davvero? si hai detto se non riuscirò a riavere il documento giuro che mangerai il tuo cappello oh non dovevi prendermi in parola tanto peggio por te così impari a non fare premesse che non puoi mantenere mangia il cappello olio non essere ridicolo hai mai visto qualcuno mangiare il cappello? no ma non ho visto neanche qualcuno fare questo mangialo non lo farò se rifiuti di forlo ti legherò ad un albero e ti farò beccare dagli avvoltoi neri lo faresti sul serio? ah ci puoi giurare ma io ho difficoltà di digestione manger ma io ho difficoltà di farò non so Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.